L'emergenza Covid ha dimostrato tutti i limiti fisici del commercio tradizionale e messo in luce tutte le grandi potenzialità del commercio elettronico, molte delle quali tuttavia sono ancora inespresse nel nostro Paese. Pensa che in Italia durante il lockdown gli acquisti si sono pesantemente spostati sul digitale, determinando una crescita a tre cifre delle vendite online, toccando il più 178% nella settimana di Pasqua e determinando la nascita di 2 milioni di nuovi e-shoppers che stanno continuando ad acquistare online. Le aziende stanno comprendendo che la loro sopravvivenza dipenderà dalla vendita online e dallo sviluppo di nuovi modelli di commercio unificati, ovvero fisico e digitale al contempo, che siano in grado di servire il consumatore su tutti i canali, online e offline. Senza ombra di dubbio il commercio elettronico sarà il settore di maggior crescita nei prossimi anni. Le aziende italiane si dovranno quindi reinventare e ripensare a strategia e operation. Ciò richiederà nuove competenze, esperienze diverse e strumenti innovativi ed un modo completamente diverso nel concepire business. Sarà necessario rimettere i clienti al centro, servirlo su tutti i canali, assisterlo e fidelizzarlo, sino a trasformarlo nel promotore naturale del tuo brand. Credimi, sarà una delle sfide più grandi ed emozionanti di sempre.